ciao amici ormai ne parlano tutti ma è comunque vero tra rischio covid e influenza di stagione la cosa migliore da fare è avere cura del sistema immunitario mascherina e disinfettanti non bastano direi di rafforzare il nostro organismo anche dall'interno che ne dici ci sono alcuni cibi che non devono mai mancare nella nostra lista della spesa le difese immunitarie possono essere stimolate dall'alimentazione alcuni cibi infatti contrastano lo stress ossidativo del corpo e allora 3 2 1 via libera a una dieta ricca di antiossidanti che parte in pole position ovvio la vitamina c l'acido ascorbico riduce la produzione dei radicali liberi e innalza le difese immunitarie le dosi della ricetta magica un grammo di vitamina c al giorno ogni giorno a tavola la assumiamo da agrumi prezzemolo kiwi peperoni rucola e pomodori scopriamo insieme quali sono gli altri nutrienti che proprio non devono mancare se vi piace l'idea mettete un bel mi piace e arrivate fino alla fine c'è il solito regalino per voi 1 vitamina d contenuta in latte formaggi tuorlo d'uovo olio di fegato di merluzzo e pesci grassi l'alternativa al cibo esposizione al sole o gli integratori 2 vitamina e presente in tutti gli oli vegetali nella frutta secca nell'avocado nei semi oleosi 3 beta carotene si trova nell'olio di fegato di merluzzo nelle carote nella zucca nel cavolo verde e ancora nelle albicocche secche nel broccolo e nelle verdure a foglia larga 4 zinco e selenio presenti nel pesce nella carne nei legumi nell'avena e nella frutta secca 5 glutamina e arginina si trovano in particolare nelle proteine animali e nei legumi allora da oggi non ho più scuse e certo la lista della spesa ve l'ho appena fatta io pronti a rinforzare le difese immunitarie mangiando come scrivo sempre nei miei libri e nei miei ebook il cibo è uno strumento di benessere non bisogna mangiare solo in base al gusto ma anche secondo la funzione del cibo mangiare in modo funzionale e in questo caso pro immunità bene amici oggi abbiamo visto brevemente quali alimenti acquistare e assumere come aiuto per rinforzare il sistema immunitario commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate le notifiche ed ecco il regalino di oggi la lista della spesa con i migliori alimenti per sostenere le difese potete scaricarla gratuitamente cliccando sul link in descrizione mangia sano e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali